Sempre aperti e poi ultimamente vedevo sempre chiuso e quindi niente. Solo vado su questo edicolo a comprare i bilietti per voi. Il signore è gentilissimo, sempre timido, così gentilissimo. Solo ho saputo ieri cosa è successo qua. Questa è storia. Sì. È un tipo un po' strano, si vede la persona quando è strana. Non ho mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere, perché la gente è normale. Buongiorno, buonasera, ciao.